ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio del DELTMACHE PARCORE ragazzi oggi guardate che andremo a fare non so neanche quello che devo fare seguiamolo qua ragazzi che cacchio questa non c'è non c'è le cose qua sono di moto dopo ragazzi voluto allora non so neanche dove sta ok ragazzi ecco quello che dobbiamo fare oggi sarà un parkour a quanto pare difficile ragazzi e a squadre ma che cacchio fai oddio no 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 ma che cacchio dai andiamo per di qua ok così perfetto ok ragazzi stiamo facendo tutto se si mette bene ok ragazzi qua ci vuole veramente molta molta calma calma cioè forse il DELTMACHE PLUGO che abbia mai fatto se ci riusciamo ovviamente qua è meglio saltare perché proprio le cose fanno male continuiamo ad andare ok ragazzi che cacchio non so che cosa servono queste cose qua sopra andiamo per di qua ragazzi veramente sarà forse difficile non lo so la parte la parte ancora più difficile deve arrivare io fortunatamente ho messo 20 minuti che ragazzi facendo DELTMACHE bisogna stare soltanto calmi e avere pazienza che intanto nessuno ci corre dietro poi e quindi l1 alla fine così era r1 e resta così poi premere l'analogico in su e premere quadrato alla fine era così ero convinto che era l1 ok oddio no dai non voglio saltare in aria però ragazzi ce l'abbiamo già fatta il cacchio lo prendi cararmato stavo pure per morire ragazzi allora ragazzi ce l'abbiamo già fatta e in fondo soltanto non siamo neanche morti allora ragazzi io vabbè in fondo mi devo suscitare allora ragazzi muovete la paura l'ho preso eh non me l'aspettavate subito subito ragazzi mi sono invincibile vabbè vabbè boom ragazzi siamo troppo forti ah non abbiamo quelli bombati sì ecco vabbè ragazzi la pistola ma speriamo che non abbandonano che cacchio intanto mi diverto qua a questo punto non ci arriva ma che cacchio ma che cacchio vuole non muore ma finalmente ragazzi è quanto qua il detto match è nostro ucciso ucciso ma che cacchio E ragazzi l'avevo ucciso Nooo E dai Ma che pere dai Eccolo qua ancora Intanto questo colaccavo pure Ancora peggio Un'altra pompa di sila Bum L'avevo ucciso ragazzi Intanto lui è morto qua così Cioè poi mi è uscito con un obiettivo Investi e uccidi un nemico usando Un nemico usando un veicolo Hanno non inciso Eccolo qua Perfetto Un altro Allora ragazzi io direi Di ammazzarlo di nuovo E poi ci facciamo un'altra volta Tutto quanto Ecco qua ragazzi ora ce lo rifaremo tutto quanto da capo Se no ragazzi non te lo uccidere solo Ma che cacchio Oh ma che segretino Ma che cacchio Quello come cacchio Era vivo o sbaglio L'abbiamo superato Yeah Ok ragazzi ce l'abbiamo fatto fortunatamente No ma dai Come ho fatto a superarlo quello Allora ce l'abbiamo fatta ragazzi Ora qua basta fare E saltiamo Andiamo per di qua Andiamo per di qua Di crediti di fifa E quindi ragazzi Mi invito sempre a lasciare un like Che cacchio Mi invito sempre a lasciare un like E di iscrivervi appunto Per non perdervi Tutte insomma Quando lo farò Insomma Che alla fine Eccolo là Che cacchio stiamo facendo Sono giocando l'occhio per l Ma uno se n'è andato Sì ragazzi Uno se n'è andato E mancano sette minuti Cacchio questa cosa ne va pure lui E ragazzi Se n'è andato E se n'è andato ragazzi Se n'è andato Vabbè ragazzi Io direi che Il vet match Può finire qua Mi invito come sempre A lasciare un like E di iscrivervi Noi ci sentiamo Al prossimo video Bella